Siamo orgogliosi di poter essere stati selezionati a rappresentare l'Italia a Blackpool. Porteremo la nostra forza, il nostro impegno come rappresentanti di questa nostra nazione e di Terni soprattutto. Siamo una squadra trennara, sono 25 anni che porto l'hip hop a Terni e questo è un evento importantissimo per noi. Sono 11 ragazzi, hanno età diversa dai 14 ai 25 dove l'arte si mescola perché dai più piccoli ai più grandi possono comunque competere insieme e poter portare un'esperienza tecnica veramente di alto livello. Sarà tutto il mondo, nel nostro solo team over 18 ce ne sono 20, 20 squadre nel mondo, poi ci saranno altre 20 squadre di altri generi. Noi siamo over 18 perché ci saranno gli under 12, under 18, ci sarà tutto il mondo.